Musica Ciao ragazzi, con questo video introduttivo apriamo il video corso ufficiale su FL Studio 12. Ci avete scritto in tantissimi, dandoci alcuni suggerimenti e facendo diverse richieste, inoltre chiedendo come mai un video corso dopo tanti anni che siamo online. Beh, la risposta è semplice. Sin dall'apertura del forum abbiamo sempre optato per la scrittura piuttosto che YouTube, ovvero fare lezioni scritte da poter leggere e stampare direttamente dal forum. E infatti dalla versione 7 di FL Studio, cioè dal lontano 2007, gli utenti del forum hanno potuto usufruire della nostra guida in italiano, ovvero le lezioni che abbiamo fatto di versione in versione, con l'indice degli argomenti organizzato secondo questo nostro schema. Introduzione, Browsware, Step Sequencer, Piano Roll, Playlist, Mixer e a seguire argomenti vari. Da quest'anno con la versione 12 abbiamo deciso di offrire di più, sia lezioni scritte sul forum, sia lezioni orali su YouTube, seguendo sempre il nostro percorso storico. Per cui ci sarà una introduzione alla nuova versione e poi a seguire lezioni sul Browsware, Step Sequencer, ovvero l'attuale Channel Rack, Piano Roll, Playlist, Mixer e infine argomenti vari. Insomma, non facciamo altro che seguire ciò che noi stessi abbiamo creato quasi dieci anni fa, con la differenza che d'ora in poi, oltre al forum, ci sarà un nuovo mezzo di divulgazione, appunto YouTube. E ci scusiamo in anticipo se la qualità delle immagini e in generale l'aspetto estetico del video non sarà il massimo, ma non siamo esperti di YouTube e delle funzionalità che esso mette a disposizione. Badiamo alla sostanza, non all'apparenza. Fatta la presentazione, passiamo alla lezione di oggi, che verterà sulle novità principali di FL Studio 12 rispetto alle versioni precedenti e sul funzionamento di base del Sequencer. Le principali novità della versione 12 sono le seguenti. Innanzitutto è cambiata l'interfaccia grafica generale, adesso più flessibile e con moduli scalabili e modificabili a piacimento. Un gran passo avanti sia in termini di estetica che in termini pratici è appunto il Mixer, che è sicuramente l'elemento di maggior impatto, completamente ridisegnato rispetto al passato. Andiamolo a vedere. Ecco, si presenta molto più professionale rispetto a prima, molto più dettagliato. Salta subito all'occhio la possibilità di inserire, di avere 10 slot per l'inserimento degli effetti. Il Mixer, come dicevo prima, e come molti altri elementi di FL Studio 12, sono scalabili, in verticale, orizzontale, cioè a vostro piacimento. In più, in questo menu a tendina, ci sono una serie di voci, compat, molto più compatto, un po' di meno, la possibilità Wide, Wide 3 Extra Large. Insomma, potete personalizzarvelo come più volete. Un'altra novità riguarda il Channel Rack, ovvero l'Ex-Step Sequencer, che al di là del nuovo nome o altre cose, permette all'utente di visualizzare immediatamente il canale Mixer, assegnato ad ogni strumento. Andandolo a vedere, il Channel Rack, eccolo qui, chiudiamo il Mixer, ecco il numero del canale corrispondenti al Mixer. Per visualizzare questo, dovrete aprire il menu a tendina, andare sul Show Mixer Track Selector, infatti, se lo deseleziono, scompare, ma per comodità mia lo lascio selezionato. Muovendo il mouse, potete notare che il numero visualizzato qui corrisponde al canale del Mixer. Interessante anche il nuovo modo per gestire i VST Plugin, grazie alla possibilità di settare più percorsi di installazione tramite Manage Plugin AdPath, ovvero il nostro canale è di arrivata. Ciao! Grazie a tutti! Grazie.